Ditelo a noi. Oggi vi parliamo dei portoghesi. Chi sono i portoghesi? Non sono quelli che, ovviamente, gli abitanti del Portogallo, cioè sono quelli in verità, ma sono quelli coloro i quali eludono, sfuggono, si sottraggono alle norme, ai regolamenti, anche alle retribuzioni, no? Insieme sui pullman, quelli che non pagano i pullman, il dovuto, il biglietto, si chiama portoghese. Nel portoghese pure chi approfitta di talune situazioni per fare i comodi propri. Oggi vi parliamo di via Umberto Mandoli, una strada chiusa, ovviamente, al transito. Cioè, in effetti, scendendo da Corso Guglielmo Marconi, ci si deve fermare all'altezza di questo camioncino che voi vedete qui, dove sta ripristinando Franco Romano, aprirà un grande negozio, ci hanno detto. Facciamo un po' di pubblicità. Invece no. Invece questa tratta viene percorsa non solo dai residenti, che ne hanno titolo, ovviamente, ma da quanti, ad esempio, vanno all'ufficio postale, no? Poiché non vi è nessun sistema di rilevazione, la telecamera, sirio, come si suol dire, non c'è. E allora tutti quanti approfittano, scendono non solo con i motorini, ma anche con le macchine. O si mettono qui con i motorini in via Vincenzo Montefusco, proprio alle mie spalle, o in via Andrea Pellegrino. O addirittura proseguono per Corso Umberto I, perché tanto non sono stati ripresi. La polizia locale, a volte c'è, a volte non c'è. E più delle volte non c'è, perché anche il periodo estivo ci sono le ferie. Insomma, uno può fare ben poco, insomma. Si riesce a fare quello che si può. Quando non c'è personale, le ferie bisogna assicurarle, garantirle e farle fruire. Poi sono le gravidanze, abbiamo tre agenti in gravidanza. Abbiamo anche, questo mi ha fatto un po' disgustare, abbiamo dei vigili urbani, degli agenti di polizia locale in allattamento. Ma lo prevede il sindacato, le norme sindacali lo prevedono. E allora perché non approfittare? Il mondo sta andando a rotoli appunto perché ci sono troppi portoghesi. Ditelo a noi.